Benvenuti nel mondo degli orologi Luminox. Il marchio di orologi Luminox è stato fondato nel 1989 a San Rafael, in California, negli Stati Uniti. Luminox si è affermato grazie alla sua innovativa tecnologia di illuminazione, che garantisce una visibilità perfetta anche in condizioni di scarsa luce. Gli orologi Luminox sono progettati per soddisfare le esigenze di chi ama le attività all'aperto, come escursionismo, arrampicata, immersioni subacque e sport estremi. Caratterizzati da un design robusto e funzionale, gli orologi Luminox sono costruiti per resistere alle condizioni più estreme, grazie a una combinazione di materiali di alta qualità e tecnologie innovative. Tra i modelli più famosi del marchio Luminox, troviamo la serie Nevisil, creata in collo con i membri del team di forze speciali della Marina Americana. Questi orologi sono caratterizzati da un design robusto e funzionale, e da una tecnologia di illuminazione innovativa, che garantisce una visibilità perfetta anche in condizioni di scarsa luce. La tecnologia di illuminazione di Luminox, chiamata Luminox Light Technology, LLT, utilizza dei piccoli tubi di vetro contenenti gas strizio, che emettono una luce costante e duratura senza bisogno di essere caricati o esposti alla luce solare. Ma Luminox offre una vasta selezione di orologi da polso, ognuno caratterizzato da un design unico e da tecnologie all'avanguardia. Gli orologi Luminox sono disponibili in diverse varianti di materiali e colori, per soddisfare le esigenze di ogni cliente. Ad esempio, la serie LEND è progettata per le attività all'aperto su terraferma, mentre la serie C è progettata per le immersioni subacquee. Il marchio Luminox ha anche collaborato con altre organizzazioni militari e di soccorso, creando orologi per i loro membri. Questi orologi sono stati testati nelle condizioni più estreme, garantendo una precisione e una durata senza pari. In conclusione, il marchio di orologi Luminox rappresenta l'eccellenza degli orologi da polso per le attività all'aperto. Grazie alla sua tecnologia di illuminazione innovativa e al design robusto e funzionale, gli orologi Luminox sono la scelta ideale per chi cerca un orologio resistente, funzionale e di alta qualità.